buongiorno benvenuti sul canale pratiche sartoriale alla moda ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana il nostro tema di oggi è tunica con un pezzo unico di tessuto la classica tunica per la spiaggia ora vi spiego come sono arrivata a questo tema prendiamo per ordine arriviamo anche allo schizzo mi è capitato per mani un coupon di questo tessuto in seta estiva color menta con una stampa particolare tipo imperiale e pensavo a cosa potrei fare con un pezzo di tessuto così perché metterlo sulla parete come un quadro non ha tanto senso farmi un foulard mi sembrava uno spreco perché il tessuto si dovrebbe tagliare si perde il disegno fare una blusa o camicia non credo che sarebbe abbinabile a qualcosa nel mio armadio poi l'ho piegata a metà così ora la piego e faccio vedere in questo modo e sono arrivata al schizzo che ho perché posizionato così mi viene fuori una bella tunica fino al ginocchio e viene fuori che davanti anche se girato ho il disegno abbastanza equo e dietro avrò questo vaso in mezzo e dai lati questi rami così questo sarà il dietro che avete già visto e questo sarà il davanti la tunica sarà fatta ad un solo dettaglio ora analizzeremo insieme lo schizzo oggi la nostra lezione sarà intera dallo schizzo fino al taglio e la prima prova faremo una sola lezione e non divisa per non dover poi aspettare la seconda parte ora guardate qui io ho piegato il tessuto a metà semplicemente a metà e nient'altro sul dietro scolatura leggermente arrotondata davanti scolatura av abbastanza profonda fino a qui dopo mi misuro e vi dico fin dove arriva un po più giù della linea giromanica inizia la cucitura che arriva più o meno al livello del bacino così rimango due rimani spazio per due spacchi laterali però mi sembrava molto triste lasciare qui davanti intero vorrei anche qui in basso un bel spacco per questo farò un taglio sul centro davanti quando farò i calcoli taglieremo e faremo la prova vedrete come viene fuori una tunica con un solo dettaglio noi faremo prima la scolatura poi calcoliamo da dove iniziare queste cuciture e dopo taglierò sul davanti che si cucce poi fino alla fine scolatura e all'inizio spacco davanti e avrò una tunica molto carina per andare al mare se saremo fortunati e troveremo dei bordini in pizzo di questo colore o arancione chiaro o benta e potremo rifinire su tutti i bordi laterale orlo sarebbe molto molto elegante se no le ragazze fanno cucitura orlino con il tale a cucci casalingo o facciamo cucitura perché fare quella mano non vale la pena per una tunica da spiaggia così perdere tempo e basta oppure rifinitura orlino e bordino in pizzo ora iniziamo a costruire come circonferenza prendete dai 120 cm in su anche se siete 80 deve essere tutto molto libero ecco qui il mio dietro che avrà come disegno questo vaso ora ve lo faccio vedere eccolo qui e questo qui ora il mio compito è di piegare in quattro in questo modo io sarò pronta per le mie vacanze estive al mare ovviamente ne ho altre da anni scorse di tuniche ma una nuova non guasta mai addirittura una molto elegante che è anche foderata completamente questo qui sarebbe il centro dietro ora guardate dal centro dietro prendo 11,5 cm 7 mm vanno in cucitura e voglio che rimanga una scolatura molto aperta io prendo 11 e 5 voi prendete quanto volete insomma vedete voi decidete cosa vi piace e in giù scendo di tre centimetri non taglio tre ma devo sapere per il momento dove si trova la mia settima vertebra cervicale ecco dove dall'alto sceso di tre metà dall'alto sceso di tre centimetri poi dal punto tre in giù scendo di 40 che è la mia lunghezza vita dietro e divido a metà che fa 20 così ottengo una linea ausiliare della linea seno e dal punto 40 in giù scendo di 17 centimetri che la mia linea bacino ora sulla linea del seno io metto un quarto della circonferenza più vestibilità che nel mio caso sono 33 ma prendo 32 la voglio molto libera ma non troppo e anche sulla linea bacino prendo 32 cm anche se per me è tanto ma la voglio molto libera e unisco con una linea leggermente sfiancata in vita linea seno e linea bacino ma non troppo sfiancato eh leggermente e dalla linea del seno scendo di altri 5 centimetri che sarà il punto da dove inizia la mia cucitura laterale ecco qui ricapitoliamo dal punto tre al punto 40 lunghezza vita dietro diviso a metà e da questa linea in giù 5 centimetri da questo punto inizio a cucire e dalla linea bacino scendo di altri 9 centimetri decidete voi anzi prendo 8 qui decidete voi di quanto volete scendere potete finire anche sulla linea bacino o più giù non ha nessuna importanza ora vi faccio vedere la linea definitiva su quale si unirà sui fianchi la tunica da qui a qui vedete sì e ora la riporto dall'altro lato segno con i spili e la riporto dall'altro lato avevo letto che portare le perle fa bene e riempie di buona energia ovviamente quelle naturali e io tra me e me ho pensato quanto siamo fortunati al lavoro che una nostra allieva Tania da Feodossia che ci ha regalato questo ciao Tania Feodossia ciao a tutti ci ha regalato questa conchiglia e noi lavoriamo giorno per giorno perché teniamo i spili questa linea la dobbiamo riportare dall'altro lato è importante calcolare che in questo pezzo entriamo con molta comodità non dovete cercare di farla aderente e sfiancare sulla figura ora la mia linea la riporto su ambo i lati fatto sulla scolatura dietro non la voglio troppo profonda quindi prendo solo 2 cm non 3 di prima e taglio ora apro e inizio a lavorare con la scolatura davanti e poi taglio sul centro davanti e con questo avrò finito il mio taglio l'importante è non aprire troppo sul davanti per non avere il seno tutto fuori anche se io non è che mi metterò a piangere se sarà più accolato questo è il mio dietro quando io ci tengo a precisare una cosa quando io vi do il taglio senza carta modello tipo manica kimono o manica ascesa non pretendo che sono quella che da migliore di tutti oppure che è l'unico metodo valido io vi do semplicemente quel metodo che so bene io come fare sono esperienze mie personali come lavorare con un tessuto senza un carta modello bene io qui ho fermato con i spili che non mi si apre la scolatura così ho fermato bene la scolatura sul dietro ora sistemo bene in due le parti davanti per non fare una scolatura storta ovviamente piego a metà esattamente in bocca uno spilo ma sappiate non si fa questo assolutamente ecco che ho sistemato il davanti non serve chissà quale fatica ora da qui in mezzo cioè da questo taglio scendo di 8 cm questa sarebbe la base del nostro colo davanti da qui scendo di 14 cm come profondità scolatura a v viene fuori che dall'inizio taglio ho preso 19 cm dall'inizio scolo dietro 19 cm ma voi adesso che la provo capirete se vi va bene oppure misuratevi qui sul davanti e capite fin dove volete aprire insomma vedete voi anche perché ragazzi la vita è breve non si sa quanti anni ci rimangono dobbiamo fare a tempo di farci vedere al mondo almeno io sono questo parere e guardate cosa succede succede che taglio via quasi tutti i fiori ma non c'è niente da fare bene ora non rimane che tagliare sul centro davanti in realtà per fare tutto questo serve qualche minuto non di più e un'altra cosa noi tagliando sul centro davanti si porta via un centimetro in cucitura vi farò vedere cosa bisogna fare sul dietro dopo in modo che questi punti siano alla stessa distanza dal centro davanti e centro dietro perfetto qui sotto ho lasciato occhio libero lo spacco poi alla prova deciderò se voglio più su o più giù non sto a perdere tempo nei calcoli prova e poi si decide margine cucitura sul centro davanti ho preso un centimetro e cercherò di trovare qualche bordino in pizzo per rifinire i margini mi farà molto più piacere portare questa tunica centro davanti centro davanti imbastisco fino all'inizio scolatura potevo non fare tale sul centro davanti ma volevo un piccolo spacco anche sul davanti anche perché così semplice intero mi sarebbe stato molto triste adesso apro e giro sul dritto così capirete cosa vuol dire un dettaglio unico tutto alla tunica viene fatta con un solo unico pezzo di tessuto dopo alla prova vedrete come sarò io bella ed elegante anche al mare ora finché abbiamo qui il centro dietro posizionato bene bisogna fare una piccola ripresa di un centimetro qui per fare pari tra tra il centro davanti e il centro dietro una semplice piega sul dietro di un centimetro in un capo così largo non fa alcuna differenza riprendo in cucitura qui un centimetro e poi verrà stirato e piegato da un lato e basta si poteva lasciare anche così ma perché la scolatura sul dietro non tenda sempre a cadere c'è sul dietro si ferma e si fa così e si scende sui 15 centimetri più o meno con la cucitura ora guardiamo come si presenta la nostra tunica finché non abbiamo cucito le cuciture sui fianchi e si presenta lei così oddio è rimasto uno spilo dietro abbiamo fatto questa piccola piega per pareggiare questo margine cucitura sul davanti ecco come si presenta il davanti che passa in spacco lo sbaglio che avevo fatto è che ho segnato le linee di cucitura sul rovescio ma serviva sul dritto ma che a me non cambia perché si notano anche dal dritto voi segnate questa linea sul dritto poi ed ecco che ho trovato cosa fare con un coupon così in seta ora mettiamo in due questa tunica bene le mie linee in teoria si dovrebbero vedere si vedono bene dai perché ho usato la pena evanescente pieghiamo in due ecco la nostra linea che io devo cucire se cucire sul dritto mi raccomando il rovescio è all'interno la cucitura va fatta dal dritto assolutamente poi non resta che aspettare la recensione di quando sarà pronta perché non so se troverò bordino in pizzo o meno e quando anche perché è da un pezzo che non mi sono fatta qualcosa con il pizzo dobbiamo fare due cuciture così e siamo a posto e poi vedremo dove si decide quest'anno per le vacanze anche perché ho detto alle ragazze qui anche se quest'anno non riusciremo a fare le vacanze per via di questa situazione anche a casa o per portare fuori le mondizie mi sentirò molto confortevole e bella anche perché non ho intenzione di tenerla in armadio e aspettare chissà quando vado in vacanza una cucitura già fatta eccola qui ora faccio anche la seconda che si vede bene anche qui la linea ecco qui la linea di cucitura perfetto io ho preso una larghezza giusta voi se volete fare ancora più libero fatelo e se fare queste cuciture laterale troppo vicine al corpo non sarà comodo come tunica al mare una tunica così è molto bella fare come idee regalo a qualcuno perché basta capire più o meno che misura veste e prego facile ma molto piacevole come regalo tunica con un pezzo unico di tessuto si presenta così penso che aprirò di più sulla scolatura ma vedremo vado a cambiarmi anche perché ho cacchierato abbastanza vado a metterla ecco indossando questa tunica ho capito la vita è meravigliosa guardate tunica in un dettaglio unico non ci sono né cucitura spala né niente che comodità si può portare anche come abito estivo un taglio così va benissimo anche come un modello estivo ecco il dietro qui come vedete c'è abbastanza larghezza ecco dove la cucitura dove il mio bacino è molto comoda sia sdraiata sul lettino oppure indossata su un costume bagnato per esempio l'unica cosa che voglio cambiare è la profondità scolatura di due centimetri la voglio più profonda quindi 19 centimetri dall'inizio spala per me è troppo poco e penso che voglio assolutamente qualche bordino in pizzo per rifinire i margini o arancio palido o sul verde chiaro o come i fiori vedremo e guardate come si è distribuito il disegno qui davanti i fiori sono praticamente spariti dietro il vaso è a metà la piega dietro ha tolto il piedino del vaso e vedete come si presenta sono molto soddisfatta della mia tunica mi piace lo spacco davanti lì dove è e sui fianchi vedete dove finisce la cucitura il resto è spacco ma essendo che scende così non si aprirà più di tanto sui fianchi questa tunica può essere corta che si indossa con dei pantaloni lunghezza genocchia come ce l'ho adesso io oppure lunga tunica con un pezzo di tessuto penso che è un tema che in tanti prenderanno in considerazione non solo al mare o in vacanza ma anche come abito per casa è perfetto e molto comodo penso che a voi piacerà molto mettete il mi piace condividete i nostri video e seguite le nostre lezioni perché no acquistate i nostri corsi fate una bella tunica così per voi o come regalo per i vostri cari è sempre una bellissima idea seguiteci rimanete insieme a noi saluto tutti come sono stati Paolo Stierna Mihailovna e tutto il nostro team